La troupe delle Iene si è recata questa mattina in comune a Giulianova per intervistare la sindaco Francesco Mastromauro per un servizio dedicato alla vulnerabilità sismica delle scuole che ha pure coinvolto altri sindaci della Scolano e del Terramano. Quasi 15 minuti di riprese con l'inviata Nadia Toffa che ha sottolineato come la sindaco di Giulianova sia stato uno dei pochi in Abruzzo ad aver fatto effettuare rilevamenti di vulnerabilità sismica sulla quasi totalità dei plessi scolastici cittadini elogiandolo per l'attenzione riservata alla sicurezza degli studenti. Qualche complimento lo facciamo non sempre le Iene sono cattive, ha postillato a fine servizio Nadia Toffa.